Fine settimana di festa in casa della Sisi Volley, in un clima di grande entusiasmo si svolta presso l'auditorium di Santa Maria degli Angeli la presentazione ufficiale delle squadre che parteciperanno ai tornei provinciali e regionali FIVAP, presenti tutti i quadri societari a partire dal presidente Antonello Piampiano e tutta la dirigenza dell'associazione, in un appuntamento che ormai è diventato negli ultimi anni una piacevole costante, quello che ha colpito subito è stato il colpo d'occhio complessivo, le gradinate erano un'unica macchia rossa e blu con i più piccoli a sventolare palloncini con i colori societari, l'apertura della serata è stata allietata dall'esibizione delle giovanissime ragazze pon pon della scuola di danza a rondine balletto di Assisi di Carla Brizi che hanno dato un tocco in più a una bella giornata di festa vestendo i colori rosso-blu della Sisi Volley, nel corso della serata curata nei minimi particolari e abilmente condotta dal vicepresidente Giovanni Granato è stato presentato lo staff tecnico della società, tantissimi gli ospiti presenti all'evento in primissi rappresentanti delle autorità comunali con la presenza dell'assessore allo sport. Giusto per raggiungere gli obiettivi con più facilità. Io ringrazio di cuore a tutti gli intervenuti.